Per noi il riconoscimento di una vocazione, quella della logistica che Maggioni aveva già con la piastra logistica di Eurospin, certo con Amazon si perfeziona e dovremo accompagnare questo sviluppo con ulteriori investimenti in viabilità, cercando anche di migliorare soprattutto le strade che ci congiungono allo svincolo del raccordo Perugia-Bettole, che è un po' l'elemento centrale della logistica qua in questa zona dell'Interland perugino. Diversi delle persone assunte sono del posto, non solo ovviamente del comune di Maggioni ma anche dei comuni limitrofi, così come anche gli autisti, del resto devono ben conoscere il territorio e quindi è sicuramente migliorativo averli che siano residenti in Umbria. Avere un ingresso dell'autodromo Borzacchini, l'autodromo dell'Umbria, invece con un capannone bello e anche da un punto di vista estetico come questo è sicuramente un'altra cartolina di Maggioni. Amazon che cosa significava per la vostra azienda? Sicuramente ci ha permesso di avvicinarci ancora di più ai consumatori finali, noi abbiamo iniziato a collaborare con Amazon dal 2015, abbiamo spedito inizialmente solo nel mercato italiano inviando noi la merce, dopo poco abbiamo visto che comunque gli ordini aumentavano molto e abbiamo deciso di affidarci alla logistica di Amazon, che è comunque sinonimo di efficienza, precisione e puntualità delle consegne. Abbiamo visto infatti nel giro degli ultimi due anni un aumento del 200% delle vendite online grazie ad Amazon. Allora, ci hanno supportato nella creazione appunto del marketplace, prima in Italia, poi in Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Polonia. abbiamo anche inserito i nostri prodotti nella vetrina del Made in Italy che Amazon ha creato appunto per le eccellenze del nostro paese, soprattutto una vetrina che permette di far vedere i propri prodotti all'estero, sia Europa che a livello internazionale. Abbiamo in programma di aprire un altro marketplace a livello globale negli Stati Uniti, a breve infatti grazie alla collaborazione sempre di Amazon e della logistica di Amazon abbiamo in programma di espandere il nostro marketplace e di coprire anche il mercato statunitense. Grazie a tutti.